Allora, devo invadire la mia appartenenza, la nostra appartenenza, la maggior parte della nostra appartenenza, la maggior parte della nostra appartenenza, la maggior parte della nostra appartenenza, la maggior parte la maggior parte di oggi, come se non anni, posizione c'è la lingua tendenza. No, però è anche il riflesso che mi è stato consentito, probabilmente sarà stato un'idea problema, però diciamo che è stata la Dio per la vita promuovere potesse conoscere le lingue tendenze. Anzi, è il punto all'integrazione di quello che è il discorso che faceva il Consiglio del Consiglio, che condivido veramente che il corpo avanti, Dio per la vita promuovere, senza sbagliare da anni o da mai, la norma della giurisprudenza non è scientifica, perché quando si modifica la giurisprudenza, si discuta solo l'Iva che dipende, di Iva e poi passate in ogni caso, la norma, la legge, la giurisprudenza, si chiede pagare, poi finanziare, poi riconoscere, quindi se ne anche discuta anche le ipotesi in cui sussistono le condizioni perché la giurisprudenza potrebbe essere anche l'altra. Nel caso decisivo tutta via, da una ricamina, per favore di quello che abbiamo avuto, nel caso decisivo comunque, mi pare di aver rispondato, e di questo chiedo conferma all'Avvocato di Milano Rosse, che siamo in presenza di titoli di Milano Rosse, che mi fa di ripudere abbastanza di pubblicato, per ogni singola sentenza, mi pare che ci sia l'affetta, mi chiedo conferma che ci sia l'affetta informativa che ci sia l'affetta informativa che ci sia l'affetta informativa, ma comunque che prevede anche la presenza, il rispondimento, che è inizio poi a parte su, così come diceva, a parte su, alla corte dei volati. E quindi questi sono questi, tutti gli attenti che, che volgo al... che vorrei, la pagina valore dei centri metri, potrebbe essere così, anche per una desiderità, a chi con desiderità voterà questo problema, per questo punto. Tra l'altro chiedo, sempre per dare maggiore desiderità a coloro che assumeranno la desiderabilità di votare, rispetto alla desiderabilità, che significa essere desideri votati e parte di questa maggioranza, in maniera continta di sette anni. Certo, tuttavia, che le votazioni, in particolare in particolare, io lasciamo per comune sul capo 3, il capo 3 è stato diputato invitando tutta una serie di sentenze, insieme per il critico sia la riparazione dei votatori, su, eh, per ogni singola sentenza, che tuttavia si proceda alla votazione, sentenza per sentenza, con un interno del seguito, e poi si è una votazione sull'interno capo, anche per facilitarlo la formazione della vita. Sui singoli, i campi successivi, che sono singoli del test, interamente, si procederà, chiedo che si proceda chiaramente alla votazione della gente, così poi, quando ci ritroveremo negli altri campi, ci sono parte di sentenza, mentre, quindi, anche, è importante che si faccia prima la votazione del consiglio del consiglio, quindi, un po' la votazione dell'interno. Bene? Vi ringrazio per l'attenzione del ciclo postato, quello che l'avvocato ha dovuto sentire, così, tutto per dare tranquillità e per innanzi e chiarire quelli che sono gli aspetti fondamentali degli altri e dell'attenzione del Consiglio. Grazie. Grazie.